Signor Presidente, Governo, colleghi, in pochi mesi è la seconda volta che il Governo interviene per mitigare il caro energia. A maggio l'aumento del 30% dei prezzi del gas legato alle riprese delle economie e l'aumento dei prezzi di emissioni della CO2 per effetto della decarbonizzazione imposta dalla UE hanno portato il Governo a stanziare 1,2 miliardi per contenere per il terzo trimestre l'incremento al 9,9% della bolletta della luce che diversamente sarebbe stato al 20%. Ma le quotazioni della CO2 e soprattutto del gas hanno continuato impetuosamente a crescere e da settembre si sono impennate. Dalla burrasca ci siamo trovati nella tempesta perfetta. Il gas nell'ultimo anno è a più 400% e ha spinto i prezzi elettrici a livello record. Il Governo, intervenendo con questo decreto, stanziando 3,5 miliardi, ha consentito in questo quarto trimestre di ridurre l'impatto del 30% per l'elettricità e del 14,4% per il gas. In assenza della misura, gli aumenti sarebbero stati rispettivamente del 45% e del 30%. Si sono ridotti gli oneri in bolletta e l'IVA per il gas a 35 milioni di clienti domestici, microimprese e piccole imprese e si è rafforzato il bonus sociale energia a 3 milioni di famiglie vulnerabili. Non possiamo dire, colleghi di Fratelli d'Italia, che non si è fatto nulla. Quella dell'esecutivo è stata un'operazione straordinaria, assolutamente necessaria, ma che purtroppo non ha evitato la battosta del caro Bolletti a molti, per esempio agli utenti del teleriscaldamento e a quelli del gas naturale per autotrazione, per il quale non è stata riconosciuta l'IVA agevolato al 5%. Oltre ai mezzi pesanti, stiamo parlando di un milione di auto metano che oggi rispetto ad un anno fa pagano il combustibile il 70% in più. Sono in ginocchio l'oro e l'intera filiera. Sono in difficoltà i sindaci per i bilanci del proprio comune e, in generale, tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli ospedali. Sono in difficoltà le medie e grandi imprese e quelle energivore del gas. Pensate, alcune imprese hanno aperto linee di credito con le banche per pagare le bollette, penso all'accordo fatto da Confindustria Lecco e Sondrio. Alte imprese, nonostante siano piene di ordini, stanno rallentando la produzione e talune si sono fermate perché produrre è diventato troppo costoso, come deciso da otto fornaci del distretto del vetro di Murano. Insomma, sono a rischio tanti posti di lavoro e ci saranno problemi sociali. Ecco, a queste realtà in crisi la Lega ha cercato di dare risposte con emendamenti, ma il Governo, rinnovando l'impegno ad intervenire anche con la manovra, in fase di conversione del decreto non ha previsto risorse aggiuntive e tutti gli emendamenti onerosi sono stati purtroppo respinti, ma noi li ripresenteremo in manovra. Il fenomeno del caro energia non è ovviamente solo italiano a dimensione internazionale, ma l'Italia soffre molto di più perché paga inefficiente mai risolte e scelte discutibili fatte in passato, come il conto energia che ha sostenuto gli impianti rinnovabili, dove sono state aumentate le speculazioni, sono aumentati gli oneri di sistema e non si è creata una filiera nel nostro Paese. I pesanti aumenti indeboliscono la competitività delle nostre imprese e colpiscono le famiglie, magari non tutte direttamente in bolletta grazie all'intervento governativo, ma indirettamente sì per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo legati agli aumenti dei costi di produzione. I rischi che venga frenata la ripartenza post-pandemia e che parta l'inflazione sono altissimi. La situazione è sempre più grave e sempre meno congiunturale e rischia di essere strutturale. Cerco di dimostrarvelo. In questo primo grafico sono riportati i prezzi medi giornalieri dell'energia elettrica in Europa nel mese di settembre. Più scuro è il colore, più alto è il prezzo dell'energia. Due rilievi. L'Italia ha il triste primato del prezzo più alto. Noi eravamo a 159 euro a megawattora, la Francia a 135, meno 15%, e la Germania a 128, meno 20%. Segnalo che nel 2019 il prezzo era da noi 52 euro, cioè un terzo. Evidenzio che proprio con questi prezzi, quelli di settembre, il Governo ha stanziato 3,5 miliardi per ridurre gli aumenti in bolletta. In questo secondo grafico notate invece i prezzi del mese scorso, ottobre. I colori sono più scuri e questo deve far preoccupare alcuni rilievi. L'Italia mantiene il triste primato del prezzo di energia elettrica più alto. Rispetto alla media di settembre, quando il prezzo italiano era di 159 euro a megawattora, quello medio di ottobre è salito a 218, l'aumento del 37%. E mentre l'Italia, il prezzo ad ottobre era 218, quello della Francia era 173, meno 21%, e la Germania 140, meno 36%. E purtroppo il trend in questi giorni di novembre è costante. Dan Chiarrera ieri ha detto che i prezzi del gas non scenderanno a breve, ma semmai dal prossimo mese di aprile. Insomma, il divario tra noi e gli altri Paesi è aumentato. Perché? Forse perché la Germania, ma la mia è una domanda retorica, ha un ampio mix energetico con nucleare al 13%, carbone e lignite al 35%. Peraltro noi abbiamo deciso di spegnere le centrali a carbone entro 2025, la Germania forse al 2038. Hanno tante biomasse che noi invece non sviluppiamo e poi ha il gas che riceve direttamente dalla Russia con il Nord Stream che fra poco raddoppia. Forse perché la Francia, con le sue 56 centrali, ha oltre il 70% di nucleare da cui noi attingiamo mediamente il 10% del nostro fabbisogno energetico. E sappiamo che Macron ha rilanciato la costruzione di reattori nucleari di impatto e zero. Appare evidente che stanno meglio i Paesi che non hanno ancora rinunciato al carbone e che sfruttano nucleare, peraltro evitando le emissioni di milioni e milioni di tonnellate di CO2 al mondo. Che conclusioni traiamo? Che la competitività delle nostre imprese e i bilanci delle famiglie italiane si stanno sempre più compromettendo. Che i 2 miliardi stanziati in legge di bilancio per limitare il carobollette nel primo trimestre 2022 sono decisamente insufficienti e lontano dall'avere effetto di mitigazione pari a questo trimestre. E poiché l'inverno si sta avvicinando, è il caso di preoccuparsene. Le cause di questa drammatica situazione italiana sono anche da ricercare nel nostro particolare mix energetico e nell'eccessiva dipendenza energetica dall'estero. Per il gas è del 95% e ci permettiamo il lusso, ipocritamente, di non sfruttare il nostro gas a chilometri zero, più pulito e sfruttabile a emissioni ridotte rispetto a quello che per almeno 30 anni saremo costretti ad importare. Cosa fare dunque? Ripeto, nell'immediato serve un'iniezione molto maggiore di 2 miliardi e allargare la platea dei beneficiari. E poi bisogna intervenire strutturalmente e ripensare alla politica energetica del Paese. L'Italia non può aspettare l'Europa che, dopo l'ubriacatura del solo rinnovabile e solo idrogeno verde, purtroppo è divisa su come affrontare il caro energia e forse solo a dicembre deciderà qualcosa. E la nostra ricetta non può essere quella dei colleghi del Movimento 5 Stelle che spingono solo su fotovoltaico e eolico. E a proposito, le comunità energetiche, non solo solo a fare vostro, abbiamo contribuito anche noi come Lega a introdurle. Anche se i sistemi di accumulo saranno sviluppati tecnologicamente non si risolve il problema della loro non programmabilità. Vedete, il problema di queste rinnovabili non si manifesta nei costi bassi di produzione dell'energia elettrica, ma nei costi altissimi della non produzione, non solo quando non c'è il sole o il vento, ma soprattutto in inverno. E con le sole rinnovabili non si può rispondere alla domanda di energia crescente. Occorre dunque tornare ad investire con biomasse, geotermia e idroelettrico, deflusso ecologico permettendo. Occorre, ed è ormai indifferibile, abbattere strutturalmente gli oneri di sistema che pesano 15 miliardi e spostarli nella Fiscalità Generale. Occorre, e sono stato l'oggetto di diversi ordini del giorno della Lega approvati, incrementare l'efficacia del servizio di interrompibilità per le imprese energivole del gas, fondamentale con l'inverno alle porte, e poi agire in sede comunitaria per definire un regolamento che stabilisca regole comuni per gestire in sicurezza gli approvvigionamenti del gas e gli stoccaggi, e agire nel pacchetto sulla finanza sostenibile della tassonomia per inserire il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico. E colleghi del 5 Stelle, avete votato anche voi il nostro emendamento che chiede di inserire il gas nella tassonomia, l'ordine del giorno 2.6. Occorre, infine, assumersi la responsabilità per sfruttare il nostro gas naturale, per ridurre la nostra dipendenza energetica, investire per diversificare le fonti di approvvigionamento, decarbonizzare sì con nuovi alberi, caro collega Anastasi, ma anche con la cattura e lo stoccaggio della CO2 e non chiudersi allo sviluppo e alla ricerca del nucleare di quarta generazione. Occorre, in abbandonare l'ambientalismo ideologico anti-impresa e procedere con l'approccio pragmatico, assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché garantire la neutralità tecnologica, perché tutte le tecnologie che contribuiscono a decarbonizzare devono essere impiegate. La Lega Salvini Premier Stats voterà a favore di questo provvedimento. Grazie.